Il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che comprende Imperia, Savone e La Spezia, Luciano Pasquale, è stato eletto come nuovo presidente dell'autostrada dei Fiori al posto del notaio imperiese, Franco Amadeo, giunto al termine del mandato. Pasquale Savonese, che era già vicepresidente di Autofiori, è stato eletto dall'Assemblea dei Soci della società controllata dal gruppo Gavio attraverso la Sias, che ne detiene al 71% delle quote. Il 20,6% invece in mano a Banca Carige e il 4,9% detenuto dalla Camera di Commercio, Riviere di Liguria, che per statuto indica il presidente. Nel consiglio di amministrazione di Autostrada dei Fiori Spa sono stati eletti anche gli imperiesi Alberto Alberti, presidente di Confindustria, Enrico Lupi, che già faceva parte del CDA, e Luigino Dell'Erba, vicepresidente della provincia e sindaco di Aurigo. Confermati i savonesi Rino Canavese e Vincenzo Bertino. Il nuovo CDA resterà in carica per un anno.